Uomini e no di Elio Vittorini Quindi conversazione in Sicilia è stato scritto all'inizio della seconda guerra mondiale in un periodo in cui ovviamente era molto molto attiva la censura fascista però già si intravedono questi presagi di resistenza, di lotta contro il regime Poi abbiamo fatto una lezione in classe su un romanzo, Le città del mondo che invece è un romanzo dopo guerra, insomma di qualche anno dopo Ecco, Uomini e no, quindi Uomini e no si ritrova a metà fra i due romanzi che abbiamo già letto insieme con le nostre classi cioè Conversazione in Sicilia e Le città del mondo Ecco, utilizziamo anche le slide realizzate da alcuni alunni Chiara Gazzani, Livia Cesari, Gianmarco Rizzo e Riccardo Verga e poi ovviamente abbiamo aggiunto anche le nostre slide e le nostre riflessioni Incominciamo col dire qualcosa riguardo all'autore e quindi ripassiamo quello che abbiamo già detto anche nei video precedenti Elio Vittorini nasce il 23 luglio del 1908 a Siracusa Nel 1927, in seguito al matrimonio con Rosa Quasimodo si trasferisce a Gorizia, dove scrive articoli per la stampa Ecco, quindi sicuramente intellettuale, giornalista, scrittore Nel 1931 pubblica già il primo libro di racconti, Piccola Borghesia Nel 1934 le critiche al regime sul giornale fascista Il Bargello gli procurano una prima denuncia Ecco, questi sono gli anni del cosiddetto fascismo di sinistra cioè degli intellettuali che hanno il coraggio di esprimere un parere diverso rispetto a quello, diciamo, egemonico, ortodosso, diciamo, del partito e Vittorini è senz'altro uno di questi Ecco, poi appunto è a Milano, per esempio ma non solo, anche in altre città del nord Italia però appunto nel 1941 pubblica quest'opera opera magna definita in questa slide grande opera effettivamente di memoria conversazione in Sicilia è un flashback, un ritorno alle radici, alle origini abbiamo detto che lui era nato a Siracusa nello stesso tempo però è anche velatamente una forte critica, diciamo, al fascismo però implicita perché appunto è riuscita anche a evadere insomma la censura fascista, pensate però è chiaro che soprattutto il personaggio del Gran Lombardo rappresenta questo desiderio di rivincita sociale di impegno politico, ecco che tutto sommato rappresenta quello che che pensa appunto Elio Vittorini Gran Lombardo perché anche lui ormai era diventato diciamo Lombardo milanese in un certo senso ma non aveva dimenticato le sue radici siciliane bellissimo questo romanzo in cui tra l'altro c'è anche la morte del fratello del protagonista nel corso della guerra in Spagna della guerra civile in Spagna e quindi anche questo sicuramente fa molto riflettere sulla vana retorica del regime che ha mandato anche a morire molti soldati in un'impresa oltretutto lo sappiamo autoritaria diciamo un'impresa totalitarista come quella di appoggiare Francisco Franco in Spagna nel 1943 durante una riunione clandestina viene arrestato e condotto a San Vittore una volta uscito partecipa segretamente alle azioni della resistenza ecco quindi che nel pieno della guerra della resistenza Elio Vittorini è a Milano viene anche momentaneamente incarcerato e partecipa anche lui a quelle azioni di questi gruppi di azione patriottica i GAP insomma dei partigiani di città i partigiani di Milano di cui poi parla subito si può dire dopo nel romanzo Uomini e Noi infatti questo romanzo viene pubblicato immediatamente a cavallo di quelli che erano i fatti gli eventi narrati anche in questo romanzo quindi già tra il 44 e il 45 romanzo qui definito non un romanzo neorealista ma dovete sapere che Vittorini aveva avuto degli importanti agganci sia con l'ermetismo sia con l'esistenzialismo e indubbiamente questi elementi che arricchiscono insomma si può dire il suo bagaglio culturale sono presenti in parte anche lo vedremo nel romanzo di cui parleremo oggi in questo periodo dirige e collabora al Politecnico si iscrive al Partito Comunista faremo poi una lezione perché è bellissimo sarebbe bellissimo farla sulla polemica che si è svolta con Togliatti appunto riguardo questo giornale il Politecnico che Togliatti riteneva dovesse essere essenzialmente un giornale ligio e ortodosso al partito mentre invece Vittorini voleva evidenziare e rivendicare l'autonomia degli intellettuali poi in mezzo c'è anche la pubblicazione di quella città del mondo di cui abbiamo parlato prima nel 57 pubblica Diario in pubblico dove riunisce gran parte dei suoi scritti critici poi nel 60 passa la direzione della collana di Mondadori Medusa e nel 66 muore a Milano dopo tre anni di grave malattia ecco abbiamo già parlato dei GAP che cosa sono i GAP? sono i gruppi di azione patriottica già nei primi mesi del 44 le brigate partigiane si erano arricchite di giovani che piuttosto che rispondere ai bandi di reclutamento dell'esercito di Saloccio e della Repubblica Sociale fascista preferivano disertare e andare a ingrossare le fila dei partigiani si formano così i gruppi di azione patriottica i GAP militanti soprattutto comunisti non solo però che si battono con audaci colpi di mano nel pieno delle città occupate i tedeschi reagiscono con rappresaglie feroci c'è l'esempio delle fosse ardiatine proprio nei pressi del Colosseo c'è la via Rasella all'interno della quale i partigiani romani dei GAP romani riuscirono a nascondere un ordigno esplosivo in un cassonetto dei rifiuti e quindi farlo saltare e così 33 tedeschi che passavano sfrontati tutti i giorni a come dire a cantare le loro canzoni di guerra in mezzo al quartiere morirono nel corso di questo attentato ma per rappresaglia i tedeschi poi uccisero ancora più di 330 cioè di 10 persone ogni ogni soldato tedesco morto e questo sicuramente è una delle stragi insomma più famose della resistenza del resto questo era il modo di agire dei GAP cioè fare attentati che portavano evidentemente poi a una reazione ma in questo modo comunque come dire toglievano il terreno sotto i piedi ai nazifascisti che non erano più sicuri di poter svolgere le loro attività e tenere l'ordine tra virgolette nelle città i GAP in buona sostanza sono partigiani che operano in città a Roma dicevamo come a Milano i GAP di Milano sono i protagonisti del romanzo Uomini e Nonni ecco il romanzo è una sorta di compresenza di bene e male ecco c'è una grande diatriba sul titolo io devo dire la verità a me questo titolo non è mai piaciuto particolarmente perché come dice anche lo storico Claudio Pavone c'è una forte distinzione sottintesa in questo titolo tra i partigiani e i fascisti della Repubblica Sociale Italiana come se i primi fossero uomini e gli altri non uomini quindi lo storico Claudio Pavone giudica altezzoso e ai confini con il razzismo questo titolo perché dice forse che i fascisti non erano anch'essi uomini certo che i fascisti e i tedeschi si macchiarono alcuni di essi di crimini efferati e bestiali animaleschi oggi vedremo appunto cane nero clan che cosa faranno però ecco ripeto questo titolo è sempre però alcuni lo interpretano in un modo completamente diverso cioè dicono che c'è una compresenza di entrambe le caratteristiche in ognuno di noi quindi visto così in maniera più esistenzialista come una compresenza di bene e di male in ciascuno di noi di umanità e di bestialità in ciascuno di noi beh lo si può anche accettare del resto noi sottolineeremo gli aspetti leggeremo i brani che testimoniano insomma di questa visione esistenzialista molto più profonda e meno superficiale insomma di quello che a me per esempio appariva all'inizio è un'analisi della natura umana infatti oltre a essere un romanzo di azione un romanzo neorealista nel senso proprio che racconta direttamente attraverso le parole dei protagonisti fatti eventi gente del popolo senza nessuno schermo tra virgolette di un narratore d'altra parte però ci sono dei momenti di riflessione Berta amante di N2 è caratterizzata da conflitto interiore tra razionalità e realizzazione amorosa la razionalità per esempio vorrebbe che Berta ritornasse da suo marito poi invece forse l'amore lo lega ancora la lega scusate ancora N2 N2 è il capo partigiano protagonista del romanzo N2 è scisso tra il dovere e l'amore per Berta e qui ci viene in mente un po' la questione privata vi ricordate di Beppe Fenoglio una questione privata un romanzo che abbiamo letto in cui c'era un po' anche lì questa dicotomia poi c'è il valore dicevamo politico oltre a quello esistenziale N2 lotta per liberare il suo paese vedendo nel suo nemico una figura bestiale un non uomo che va distrutta solamente il giovane operaio nella conclusione del romanzo riuscirà a superare questa forte opposizione tra bene e male proposta dal comandante del Naviglio 2 il Naviglio 2 è una specie di brigata chiamiamola così di gap di partigiani di città di cui N2 è il capo è il comandante l'operaio di cui non si dice neanche il nome che occupa proprio le pagine finali del romanzo diventa partigiano e si comporta in un modo completamente diverso rispetto ad N2 nei confronti ad esempio di un tedesco ecco perché dicevo che c'è questo titolo ma poi c'è tutto uno sviluppo e anche delle chiaroscuri non so come definirli cioè dei momenti decisamente meno retorici ecco nel romanzo in cui appaiono questi personaggi come questo giovane operaio che sembra essere davvero superiore a ogni tipo anche di divisione politica e militare dopo essersi riconosciuto infatti negli occhi del suo nemico questo operaio guarda un nemico che è un soldato tedesco e dovrebbe ammazzarlo però a un certo punto di cosa si accorge si accorge che questo soldato tedesco è un operaio come lui cioè capisce dai modi di fare di questo tedesco dalle sue mani eccetera che è un operaio come lui che è un uomo come lui l'operaio quindi quello italiano diciamo il partigiano decide di non uccidere il soldato tedesco poiché entrambi erano accomunati da un valore che a quel tempo tanto si ricercava l'umanità e a me piace molto quindi questa fine del romanzo Uomini e no perché come abbiamo visto anche in alcuni romanzi di Cesare Pavese si riconosce un abriciolo di umanità anche nel nemico